Onorevole Bersani, Mattarella è quello giusto e avrà il consenso largo per essere il presidente di tutti? Io voglio credere, adesso si sta votando, che il consenso per Mattarella aumenti e ci sia anche da parte di chi fin qui non si è convinto perché in fondo un presidente della Repubblica è importante che sappia qual è il suo mestiere e Mattarella credo che sia una persona che conosce perfettamente che cosa la Costituzione chiede al presidente della Repubblica, l'unità della nazione, garantire l'unità della nazione e di smettere, abbandonare se mai uno ce l'ha, uno spirito di fazione o di parte, Mattarella conosce benissimo questa cosa e quindi chi vuole un presidente di garanzia eccolo qua che c'è, tanto vale votarlo.